buongiorno siamo di nuovo con paola cristalli una nostra ospite molto amata che invitiamo molto spesso e anche oggi parleremo di cinema e di profumi io mi riservo ogni tanto una piccola interruzione che cercherò di non fare ma mi conosco e sarà impossibile che io ti ascolti passivamente tutto il tempo ma siamo veramente molto molto curiosi di sapere di cosa ci parlerai anche perché vedo quei fiori lì sullo sfondo e sono un po' curiosa paola alessandra ciao e grazie di nuovo per questo invito e per questi inviti frequenti e naturalmente sei assolutamente chiamata a intervenire il quando e come vuoi anzi è assolutamente un piacere uno stimolo per me e credo anche per chi ascolta dunque quello di cui volevo parlare oggi è continuare a riprendere le fila del discorso che avevamo cominciato e paragonando due linguaggi artistici che abbiamo visto nascere più o meno nella negli stessi anni a fine ottocento cioè il linguaggio del cinema e il linguaggio dei profumi della creazione dei profumi e diciamo superare finalmente quella soglia del salone indienne del boulevard de capucine dove si tennero le prime proiezioni lumière nel 1895 e del e del quale diciamo delle quali abbiamo cercato un po di ricostruire l'atmosfera olfattiva e di spostarci avanti di una ventina d'anni approfittando anche di quella mancanza di gravità a cui marte ci autorizza credo no io sono in una bolla di protetta però non fluttuamo nella nella diciamo che siamo autorizzate a un balzo molto elastico che ci porta negli anni dieci e a capofitto nel cinema mutuo italiano un cinema mutuo italiano che dico subito è a mio avviso insomma secondo le mie ipotesi ma credo anche riscontrate dai fatti dominato da un forte immaginario figurativo floreale questo lo rende in questo rende in qualche modo il suo percorso parallelo a quello della creazione di profumi che in questi anni in particolare è profondamente dedito all'evocazione della della dei sentori dei fiori e spesso di un solo fiore alla volta diciamo però quindi diciamo che ci teniamo un po per partire bene sotto l'ombrello protettivo di Baudelaire che diceva nelle correspondance qualche decennio prima diceva però i profumi i colori e i suoni sere pond sere pond che credo di poter tradurre come si fanno eco l'uno con l'altro si rispondono insomma si chiamano quindi ricostruiamo un po quel panorama percettivo di questi di questi anni cinema mutuo italiano abbiamo detto intanto volevo dire una cosa una cosa che si può dire del cinema mutuo italiano degli anni dieci e che è il più bello del mondo ovvero detto con un po di enfasi cioè si crea però una serie di circostanze per cui è il cinema più ricco di invenzioni formali ma anche di una ricchezza narrativa che gli arriva da tutta la tradizione letteraria precedente ed è anche un cinema estremamente visto cioè molto presente sulla scena internazionale molto esportato al punto da essere estremamente influente quindi in qualche modo questo è un fenomeno che non si verificherà più nella storia del cinema italiano e diciamo immagino delle obiezioni possibili perché tu puoi dirmi o altri possono dirmi altri studiosi di cinema o appassionati possono dirmi ma come il neorealismo come il cinema di fellini e visconti come gli anni sessanta cioè il momento in cui l'industria cinematografica italiana è comunque la seconda più pesante più importante nel mondo dopo quella americana ma il principio proprio questo che tutte queste eccellenze il neorealismo fellini visconti il cinema politico tutto quanto sono comunque eccellenze che si producono dentro un perimetro già chiaramente stabilito il cui centro è occupato in modo molto ingombrante dal cinema americano da noi saremmo sempre al massimo al secondo posto tu dici ecco noi saremo siamo stati e saremo diciamo così eccellenze indiscusse indiscutibili ma in qualche modo periferiche ok negli anni dieci è tutto in ebollizione è tutto in costruzione ora per carità è chiaro che in america negli anni dieci del novecento c'è chaplin c'è griffith si stanno letteralmente sollevando le architravi del linguaggio però se pensiamo appunto alla ricchezza come dicevo di fantasie e di trame allora probabilmente il cinema italiano di quegli anni non ha uguali e soprattutto è nel cinema italiano di quegli anni che nasce un fenomeno che sarà poi sempre una forza motrice della storia del cinema che si chiama divismo ed è un divismo femminile ed è un divismo femminile di attrici di cui adesso butto là qualche nome nella forte speranza che sollecitano qualche eco e sono i nomi di francesca bertini e di lida borelli di pina menichelli e qui mi fermi fermo cito soltanto diciamo le più veramente quelle che allora dominarono completamente le scene e di cui arriviamo a dire appunto che cosa sono cosa rappresentano queste dive intanto se poi abbiamo tempo voglio dirti che nonostante la loro apparenza sofferente passionale destinata alla disfatta e floreale sono assolutamente donne che vengono da Marte vedremo poi perché se riusciamo questo è un grandissimo scoop di cui si parla sono cose di cui si parla poco sono donne che vengono da Marte nel senso militante che intendi tu e dopo proviamo a vedere un attimo perché adesso quello che però mi interessa e di mi interessa perché è più collegato dal discorso appunto sulla corrispondenza bodleriana con i profumi è che queste signore queste attrici queste donne queste dive che danno origine ad un vero e proprio genere che si chiama il diva film il diva film italiano visto in tutto il mondo ripeto si muovono spesso su sfondi e ambienti traboccanti di fiori che possono essere i salotti borghesi che possono essere giardini d'inverno incorniciati di splendidi palmizi che possono essere i giardini dove a volte eh si hanno luogo gli snodi drammatici di queste loro vicende che sono appunto vicende come dicevo fortemente meno drammatiche ispirate sempre a principi di amore di morte insomma ma non è solo questo il punto non sono solo gli ambienti diciamo che in qualche modo le circondano con questa esuberanza floreale è che è il modo stesso in cui loro si pongono davanti eh dico proprio si pongono perché credo che ci sia molta costruzione consapevole da parte delle attrici in questo davanti alla cinepresa è un modo che evoca i fiori adesso mentre parlo da adesso in poi vedremo alcune immagini che rendono la cosa forse un po' più chiara vediamo queste attrici questi visi che nel momento dell'estasi dell'abbandono veramente si aprono come corolle di rose corolle di peonie mentre il peonie che ho dietro mentre il mentre magari nel nel tormento i loro corpi si hanno delle torsioni da pianta rampicante da lasciami dire da ipomea da convolvolo ecco evocano tutto questo mondo è chiaro che c'è una letteratura decadente decadentista dietro insomma ma quello che vediamo ed è i loro è così i loro abiti così in qualche modo le loro acconciature così le pezzerie appunto che le circondano è veramente un mondo di forte impronta vegetale dove si vede che il floreale il vegetale determina molto la vita intima del personaggio e ha una immediata proiezione esterna questo questa cosa diciamo non non è che vogliamo dire che la inventa il cinema mutuo italiano o che la inventano le dive naturalmente ci sono dei precedenti c'è questa questo tipo di impostazione figurativa trova le sue radici nella pittura soprattutto tardottocentesca e penso soprattutto per ai pre raffaelliti e qui vediamo possiamo vedere alcune immagini in cui questa discendenza questa ispirazione è piuttosto è piuttosto chiara ma anche penso non so a pittori italiani a parigi a fine ottocento a bondini a denittis alla grafica che si pone in quegli anni grafica pubblicitaria non so se hai avuto modo di vederla io purtroppo non sono riuscita però c'è stata a firenze si è chiusa pochi giorni fa una mostra molto bella dedicata a questo illustratore fra otto e novecento che si chiama alfonso muca e che ha veramente con queste sue donne dalle lunghe chiome sciolte anche loro sempre vestite di veli e con con e stilizzazioni floreali alle spalle ha molto avuto molto molto sentito parlare ma non sono riuscita a venire il viaggetto era un po lungo quindi è vero è vero per me qui dal mio studiolo sarebbe stato più corto ma insomma una cosa o l'altra nemmeno io ci sono riuscita ma conosco abbastanza bene la la produzione di mucca e quindi vedo bene il il rapporto col cinema col cinema di quegli anni quindi alle spalle c'è tutto questo diciamo c'è tutta questa tradizione e qui ad esempio vediamo io vorrei appunto mostrare c'è un'immagine è molto che rende molto chiaro quello che sto dicendo e anche che ti racconta a che punto di di a che punto estremo può arrivare questa rappresentazione in un cinema come quello delle dive italiane mute che è assolutamente un cinema estremo in senso passionale anche in senso figurativo c'è un quadro di john william waterhouse pittore britannico che si inserisce nella linea dei pre raffaelliti è un quadro del 1908 quindi siamo un po fuori tempo per i pre raffaelliti ma la discendenza è quella ti faccio vedere allora lo vedremo ma ti faccio vedere cos'è perché non a caso funziona spesso da copertina per libri che parlano di rose o poi comunque in generale che parlano di pittura del periodo se si vede se riesco a farlo a vedere il libro è questo il quadro è questo e tu guarda e adesso lo appoggio perché immagino lo potremo vedere in altro modo e è un esempio straordinario di come diciamo non il rapporto fra donna e fiore è totalmente fusionale non si sa dove finisce la rosa e dove comincia la donna sembra quasi che ci sia uno specchio in mezzo con i due benissimo benissimo infatti esattamente qualcosa del genere tant'è vero che proprio dico il rossore delle guance della donna e il corallo con lo corallo della rosa si fondono l'un l'altro e finiscono per produrre l'effetto di specchio quindi di narcisismo che ovviamente è alla base di molte di queste relazioni ma anche il verde della sete della veste il fogliame si fondono ed è in sostanza estremamente erotica perché non si sa chi sta baciando chi ma portando agli estremi questo rapporto fusionale c'è soprattutto una diva italiana che è Pina Menichelli che spesso ha un rapporto con i fiori e lo vediamo in cui non soltanto ha magari questi grandi mazzi di rose ma li porta al naso e poi li prende a morsi li addenta cioè sono rapporti davvero come dire che travalicano ogni senso ogni abitudine e ogni anche ogni percezione ogni percezione comune come è proprio di questo cinema delle dive che è un cinema a suo modo estremamente eversivo sul piano passionale ma di questo passionale non solo e anche in qualche modo sociale ma di questo parliamo un attimo dopo adesso vorrei dire come tutto questo e mi prendo degli appunti perché ci sono nomi che non ricordo se non allora tutto questo risuona ritorna nel mondo della nascente industria dei profumi del profumo che è ovviamente soprattutto francese ancora ma non solamente di questi anni allora è il primo per dirti il primo profumo e che nasce dopo quella quella sorta di linea che abbiamo tracciato nel precedente incontro e sulla idea di profumeria moderna che nasce veramente a fine ottocento quando alla estrazione e all'utilizzo dei materiali naturali si unisce la ricerca di laboratorio e la produzione di molecole sintetiche queste molecole sintetiche che per tutti questi anni però cosa cercheranno di fare di comunque evocare in maniera più ancora più vera del vero la il sentore dei fiori o perlomeno pretenderanno di produrre un'immagine del fiore che sia ancora più seducente convincente un'immagine olfattiva del fiore il primo il primo profumo in questo senso è prodotto da franzo che lavora in questo senso diciamo è prodotto da franzo a cotì uno dei padri della della profumeria francese dunque mondiale che nel 1905 6 e mette sul mercato crea e mette sul mercato un profumo che si chiama la rose jacques minot che si basa sull'assoluta di rosa di grass è un successo straordinario e da lì comincia una serie di profumi che si chiamano li leggo scusami ma altrimenti non me li ricordo che si chiamano ecco la rose jacques minot segue gelsomino di corsica seguono tante altre rose qualsiasi casa c'ha la sua rosa garlaine tutti gli altri caron tutti gli altri ma non so il gelsomino di corsica uno che un profumo che si chiama oiefane che vuol dire garofano appassito il muguet du bois il mughetto del bosco che resterà in produzione fino agli anni 70 con enorme successo peraltro il mughetto è un fiore dal quale non si ricava nulla è il profumo del mughetto è prodotto in modo interamente sintetico cioè il mughetto poverino non riesce a restituire nulla stessa cosa ce n'è un altro che mi piace tanto che si chiama ideal mimosa perché lo dice bene è la mimosa ideale non è la mimosa reale è la mimosa che io bourgeois ti sto proponendo però tutto questo tu immagina è fa parte davvero definisce un universo percettivo molto interessante secondo me in tutti gli ecchi che che mette in campo ma è una cosa ecco che mi piace anche molto dire perché qui entra un po in gioco anche la profumeria italiana un altro fiore sovrano del periodo è la violetta la violetta personalmente un profumo un tipo di profumo un po come dire che che sa molto di superato insomma di superato dei tempi a me piace molto e si insinua in maniera magari non dichiarata in tanti profumi anche anche contemporanei insomma ma la violetta ha un grande successo in questo periodo e ha anche una ricaduta sociale piuttosto interessante perché la violetta è un altro fiore dal quale non si ricava nulla è uno di quei fiori che io definisco reticenti cioè è troppo fragile troppo debole perché possa essere sottoposto a qualsiasi processo quindi deve essere inventata in laboratorio e viene inventata in modo sublime inventata ricreata perché a fine ottocento si scoprono queste molecole che si chiamano iononi o alfa iononi che adeguatamente utilizzate producono l'odore di violetta e lo producono in maniera relativamente economica infatti abbiamo la vera violetta di Roger Gallais ma abbiamo anche una violetta borsaria a Bologna abbiamo anche la violetta di Parma abbiamo in Francia la violetta di Toulouse ce ne sono tantissime il problema qual è che il profumo è troppo economico cioè ottenere l'odore di violetta dagli iononi è molto semplice quindi diventa un profumo che può permettersi la piccolissima borghesia quindi le signore d'alta classe non lo vogliono perché diventa il profumo delle cameriere e cosa succede a dimostrare l'astuzia e la totale idiozia del capitale allo stesso tempo succede l'intelligenza e l'igizia diciamo più che l'astuzia succede che la violetta ha un profumo la violetta ottenuta dagli iononi comunque ha un profumo molto simile a quello dell'iris cioè gli iononi che sono quelli che servono a darci il profumo di violetta somigliano molto anche possono somigliare con una leggerissima variazione al profumo che conosciamo comunque cipriato polveroso leggermente più burroso dell'iris ma ottenere il profumo dall'iris si può l'iris non è una pianta reticente dal bulbo dell'iris e si ottiene il burro di iris che poi serve a produrre il profumo il processo per ottenere questa preparazione questo burro di iris è molto lungo e molto costoso è costoso soprattutto per la lunghezza dell'essiccazione questo vuol dire che i profumi all'iris naturale costano moltissimo hanno alla fine un odore estremamente simile e che soltanto un naso raffinato può distinguere ma quelli alla violetta costano molto poco quelli all'iris costano moltissimo quindi diventeranno i profumi delle duchesse mentre gli altri restano i profumi della piccola borghesia ti interrompo un attimo perché sono troppo affascinata da questa storia di classe fra l'altro di lotta di classe ma mi incuriosisce molto questa cosa di ricreare i fiori in laboratorio perché su Marte secondo me sarà molto più facile ricreare i profumi chimicamente ancora prima di avere i fiori veri a questo punto penso di sì ci vorrà per avere i mughetti o le violette quando invece poi i laboratori chimici ci saranno di sicuro e quindi questo mi conforta ecco che ci sia sì ci sarà però ricordiamoci i profumi terrestri perché se noi non sappiamo più se non alleniamo l'olfatto non sappiamo più neanche qual è un profumo di violetta e uno di mughetto perché non è così certo di andare ad annusare questi fiori ormai certo ma io devo guarda bisognerebbe fare una passeggiata olfattiva quando ci sono i jardini brava guarda questa cosa che mi hai detto mi dà l'occasione di raccontare un episodio celeberrimo che è un po' nella leggenda per tutti gli appassionati di profumi ma è carino lo voglio dire perché dimostra come poi risponde molto bene appunto bodelerianamente alla cosa che tu hai detto adesso è chiaro che dobbiamo per riprodurre bene il profumo del mughetto in laboratorio dobbiamo conoscerlo splendidamente bene e allora cosa fece uno dei più grandi creatori di profumi compositori di profumi del novecento che si chiamava Edmond Rudniska e che è stato fra l'altro il primo nella fine anni 50 inizio anni 60 a parlare del profumo come forma d'arte e a chiedere senza successo che fosse riconosciuto come proprietà intellettuale non voglio dire ci sono ci sono dei ovviamente c'è una proprietà intellettuale sui profumi ma non è dello stesso tipo che che intendeva Rudniska comunque quello che voglio dire l'episodio è questo essendo lui un grande amante del mughetto voleva proprio riprodurre perfettamente un profumo al mughetto e quindi per cinque anni ha piantato i mughetti nel giardino della sua casa vicino Parigi poi i mughetti sai che sostanzialmente fioriscono per due settimane all'anno non di più per questi cinque anni in quelle due settimane lui e la moglie la mattina all'alba uscivano e si mettevano carponi per terra sulle ginocchia e sulle mani a annusare questo mughetto finché il profumo era più fresco e lui dopo cinque anni è riuscito a creare la formula che diciamo perlomeno ha dato luogo al profumo al mughetto più famoso del mondo che fu Diorissimo per Dior che è tuttora in produzione ma che purtroppo non ha più nulla che vedere ho quasi nulla a che vedere con la meraviglia che riuscì a produrre l'urnisca il perché è così lo racconteremo la prossima volta quando parleremo del restauro dei profumi antichi invece qui tu mi stavi dicendo una cosa che adesso ho dimenticato ti stavo dicendo l'importanza invece proprio di allenarci all'olfatto questa cosa che hai detto adesso che mi sembra fondamentale perché non possiamo fare le foto ai fiori, le foto ai profumi certo certo è un allenamento ed è un patrimonio è un patrimonio che ha bisogno di una conservazione e di una diciamo perpetuazione di tipo particolare insomma in questo è appunto un linguaggio artistico particolare che ha bisogno di una cautela, di una protezione particolare ma ecco volevo dirti ancora che i fiori che vanno a comporre i profumi di questi anni ecco non sono soltanto fiori incantevoli e soavi da qualche parte dovevano venire fuori anche i fiori del male appunto ci sono alcuni fiori che sia nel cinema sia nell'arte sia nella produzione di profumi poi destinati al mercato giocano su questo lato oscuro e qui mi piace ancora una volta mettere in parallelo alcune produzioni e ripartiamo di nuovo dall'arte figurativa, dalla pittura c'è una opera di fine ottocento di un pittore britannico sempre post-Raffaellita diciamo che si chiama Lorenz Alma Tadema e l'opera si chiama Le Rose di Elio Gabalo e rappresenta un banchetto storico mitologico con l'imperatore Elio Gabalo che era questo imperatore romano di origine persiana in cui i convitati vengono a un certo punto travolti lo vediamo intanto, vengono travolti da un'autentica tempesta di petali di rosa ora è chiaro che l'impressione è che alcuni di questi convitati di questi convitati saranno soffocati dalle rose moriranno in mezzo ai fiori diciamo e Alma Tadema diceva no io non ho voluto rappresentare una morte per soffocamento ma soltanto l'abbandono al puro piacere ma insomma l'impressione resta un po' quella a me ha fatto venire in mente qui cerco di accostare una sequenza di un altro di un diva film dei più importanti Malombra con Lida Borelli sempre tratto da Fogazzaro in cui nella parte finale mentre la diva va incontro alla sua inevitabile disfatta insomma al suo destino al suo destino di morte si trova in una stanza assurdamente piena di fiori ma il pavimento è pieno di fiori dagli muri ci sono cascate di fiori e mi ha fatto venire in mente questa idea sta veramente morendo in mezzo a queste rose, a questi fiori e quindi diventano un principio appunto anche di nullificazione anziché di esaltazione della bellezza femminile come sono in altri casi e questo mi porta anche a sciogliere ma solo in parte poi magari ne riparleremo quell'indovinello con cui avevo finito non la puntata in cui parlammo di cinema ma l'ultima in cui abbiamo parlato piuttosto di letteratura sui profumi e ti dicevo a mia conoscenza c'è un solo film che prenda il nome da un profumo e dove il profumo diventa un punto nodale della storia il profumo di cui parlavo e che adesso cito si chiama Narcisse Noir Narciso Nero viene creato nel 1911 da Ernest D'Altroff altro grande maestro di profumi francese di origini russe e è un profumo che esiste tuttora è stato per molto tempo fuori riproduzione poi è stato ripreso invece ha avuto già diverse riformulazioni è un profumo denso, dolce, narcotico narcotico è l'aggettivo che è sempre stato usato per questo profumo ti prende un po' la gola effettivamente è davvero mortale cioè insomma è davvero l'abbraccio mortale fra un fiore d'arancio molto molto maturo quando rilascia proprio tutto il suo sentore più dolce è un puro legno di sandalo come adesso non esiste di fatto più insomma e quindi viene ricreato anche questo in laboratorio però il film in questione di cui mi piacerebbe parlare in una prossima occasione si chiama Black Narcissus ed è un... quindi diciamo che ho un po' barato perché il titolo del profumo è francese e il film è britannico-inglese è un film di Michael Powell ed Emerick Pressburger una, quindi due giganti del cinema inglese è un film anche questo iper colorato, romantico percorso da un'assoluta follia è un film appunto sulla follia sessuale e sulla fine del colonialismo britannico insieme mi piacerebbe poi parlare e spiegare perché il profumo un poco intreccia e scioglie tutto ma magari adesso... siamo ancora a cinque minuti una domanda sola ci consigli di guardarlo prima di ascoltare la tua lezione che farai su questo film o è meglio che prima ascoltiamo te e poi guardiamo questo film? Allora, guarda Alessandra non voglio assolutamente fare una lezione su questo film voglio parlarne per cinque minuti se qualcuno riesce a vederlo è molto meglio molto meglio allora... io non so se sia disponibile su YouTube semplicemente se sia disponibile in DVD guarda io ne ho vista una bella bella copia ne abbiamo presentato una bella bella copia all'ultimo... non all'ultimo scusa l'anno passato al cinema ritrovato del... al penultimo cinema ritrovato qui a Bologna in Piazza Maggiore una copia vintage in Technicolor insomma fu una grande... è stata una grande... mi farà un viaggetto fino alla Cineteca di Bologna a vedere ti dovrà capitare in questi due minuti voglio far vedere come al solito la mia bottiglietta così come dire se no non va bene ecco per dare per dare l'idea questo è un profumo che mi è che è caro al discorso che ho fatto perché eccolo qui anzi guarda lo vorrei aggiungere una bella spruzzata ah che buono mi è caro perché è stato realizzato nel 1913 che è anche l'anno del primo vero diva film italiano che si chiama ma l'amor mio non muore sempre con gli ziorelli quindi vabbè è proprio questa coincidenza mi piace ma di questo di questo profumo mi piace anche dire intanto vediamo il nome il nome è Quelque Fleur qualche fiore lo produce Oubigan che è un'altra marca francese di grande rilievo all'inizio che nasce appunto è fra le prime fra le prime case francesi che quindi nascono all'inizio del secolo e voglio solo leggerti perché ancora questo non potrei ricordarti ricordarlo quali sono i fiori che compongono questi Quelque Fleur e sono Gelsomino un colto dove tutti i semi sono volati da tutti i posti della terra perché brava questa è una bella immagine questa è una bella immagine che mi piace molto che mi piace molto e ti dirò anche visto che tu sei veramente rabdomante in questo che ne hanno fatto una versione più recente che si chiama Quelque Fleur Jardin Secré Giardino Segreto in qualche modo vedi perfettamente così però quello che volevo dire ancora una volta per questo è un profumo che tiene insieme tanti fiori alcuni dei quali sono appunto i fiori reticenti che devono essere ricreati ma ti dà l'idea di una totale e sì quasi insopportabile densità odorante quindi perché in realtà questo è ancora oggi un profumo delizioso perché perché quei principi chimici che soltanto il chimico il laboratorio sa usare e che in questo caso sono le aldeidi cioè le aldeidi che poi in modo massiccio porteranno al miracolo di numero 5 diciamo è come se allentassero questo tessuto così denso di fiori e zampillassero in mezzo portando aria portando leggerezza portando tutto tutta quella differenza concettuale che c'è fra creare un'opera d'arte anche nel laboratorio e raccogliere i fiori e tirarne fuori gli oli o le e comunque insomma così abbiamo descritto un po' questo questo immaginario di fiori e profumi e di cinema probabilmente anche queste donne che vedevano queste dive e amavano profumarsi poi per avere non lo so per avere gli stessi profumi per ricreare i fiori a cui si ispiravano mi sembra che ci sia tutto un legame fra queste cose no che hai c'è totalmente un legame e ti dirò di più adesso so che non abbiamo tempo ma è un legame che io capisco per questo prima volevo dirti che questa immagine un po' di queste donne che soffrono e amano e eventualmente muoiono fra i fiori sembra un'idea un po' regressiva se vuoi un po' convenzionale della donna in realtà in realtà queste donne attrici per questo dicevo sono donne che vengono da Marte sono veramente padrone della cinematografia italiana di quegli anni ma non solo perché sono sullo schermo perché scelgono come esserci perché spesso scrivono i loro personaggi alcune di loro sono registe almeno in un caso è anche una grande imprenditrice di cinema il vira notari dell'imprenditrice del cinema napoletano quindi è una presenza di sono davvero delle prime donne in un senso come dire non prime donne e le vogliamo riscoprire le vogliamo tutte con noi su Marte e beh dire altre cose che devi portarti su Marte ti aspettiamo presto per la prossima puntata grazie grazie mille Alessandra e grazie mille grazie cara grazie mille